La camera car montata sulla Mini Cooper su cui viaggiavano Mauro e Gemma Mendolie è stata consegnata alla procura di Termini Merese che ha aperto un'inchiesta per accertare cosa sia successo ieri mattina alla Targa Florio durante le prove valide per il campionato italiano di rally assoluto conduttori. Per capire cosa abbia provocato l'incidente in cui hanno perso la vita Mauro Mendolie e Giuseppe Laganà, direttore di gara. Restano stazionari invece le condizioni di Gemma che ha trascorso la notte rianimazione all'ospedale civico di Palermo. La figlia di Mendolie, navigatrice di rally, è rimasta gravemente ferita nell'incidente che è costato la vita al padre. La ragazza è stata operata ieri sera al braccio per una brutta ferita ed è stata sottoposta nuovamente all'attacca che ha confermato il trauma cranico anche se non è necessario al momento un intervento chirurgico. La prognosi resta riservata al suo capezzale, la madre Rosaria Villari e la sorella Valentina, anche loro appassionate di motori come il padre. Una passione che accomunava la famiglia Mendolia. Lo scorso anno Gemma e Valentina hanno gareggiato su mini JCV al tredicesimo rally del Tirreno. Una famiglia conosciuta nel mondo della Messina sportiva che oggi piange la morte di Mauro. Chiunque lo conoscesse sapeva quanta passione avesse per questo sport. Mauro era un appassionato di motori, era arrivato secondo al campionato siciliano assoluto per appena un quarto di punto ma soprattutto prestava molta attenzione alla sicurezza stradale, racconta Massimo Rinaldi, presidente dell'Automobile Club Messina e perito assicurativo come Mauro Mendolia. Ieri Rinaldi era sul posto quando è avvenuto l'incidente perché fa parte del collegio dei commissari e rappresenta il presidente della federazione. Non potevamo crederci, l'incidente si è verificato in un punto dove non pensavamo che sarebbe mai potuto succedere. Un rettilineo in salita con l'asfalto solo un po' umido, niente che Mauro non avesse già affrontato nella sua lunga carriera. Adesso a spiegare cosa sia successo sarà la magistratura.